A fine allenamento c'è anche tempo per uno sguardo ai giochi dei più grandi, dall'estate delle nazionali, che vedrà la Polonia e l'Italia avversarie sia in World League che all'Europeo, alle sorti di casa Modena che domani sera comincia i play-off contro Cuneo. Ho visto giocare veramente molto bene Modena, non so com'è la condizione fisica di alcuni giocatori che ultimamente aveva un po' messo in difficoltà il coach Lorenzetti, però credo che possano far bene, rimango sempre convinto che Cuneo sia più forte. Il pronostico di Andrea Anastasi ci porta direttamente al big match di domani sera al Palapanini quando nella prima gara dei play-off con Cuneo avanti già 1-0 per la miglior posizione in classifica al termine della regular season comincia l'avventura di casa Modena che sogna un colpaccio. Sentite. Al pronostico del collega Anastasi in visita alla polisportiva Anderlini e sicurissimo della vittoria di Cuneo, Angelo Lorenzetti ha risposto così. Si vede che ha visto anche le quote della scommessa e ovviamente è normale mettere i soldi a sicuro. Divertito, ironico ma anche un po' più sereno rispetto a qualche tempo fa quando gli acciaccati erano tanti e la condizione strepitosa dell'inverno sembrava perduta. Casa Modena non è al meglio ma si affaccia ai play-off con l'ottimismo della gioventù e lo spirito dell'outsider contro l'avversario più quotata. Loro sono più forti, noi dobbiamo fare la nostra parte e soprattutto sapere che la giornata di domani per come ci sia arrivata è una conquista da parte della squadra e che quello che faremo lì non abbiamo niente da perdere ma tutto da conquistare. Stiamo peggio di un mese fa e questo qui insomma non è una cosa bellissima però stiamo molto meglio di 15 giorni fa e quindi dobbiamo starci per imparare e per vedere insomma quando si creano le occasioni di sfruttarle. Oggi rifinitura, domani pura concentrazione per l'esordio nei play-off in casa alle 20.30. Il Palapanini per ora non è sold out, complice la concomitanza col calcio ma può ancora esserlo. Nelle ultime 48 ore, svela lo staff, i dati nelle prove antropometriche di salto sono stati i migliori dell'intera stagione. La spalla di Andrea Sala sta meglio e l'allarme dell'ultima ora per Loris Mania è rientrato. In sestetto ci sarà molto probabilmente il francese Kesk, mentre Kovacevic e Deru, i giovanissimi, faranno staffetta per non riaccutizzare i rispettivi acciacchi. Sotto rete il duello più affascinante, Baranovic contro Gerbic, 1-1 e palla al centro dopo i risultati speculari delle due sfide di regular season. Cuneo parte 1-0 per via della formula bislacca ma la casa Modena di quest'anno è nata per stupire.